Comincia domani e terminerà sabato a mezzogiorno presso la Corte d'Appello di Campobasso la presentazione delle liste dei candidati che si confronteranno alle prossime elezioni regionali del 25 e 26 giugno. Nelle scorse settimane, e sarà così fino all'ultimo istante utile, partiti, movimenti e coalizioni si sono sfidati nella caccia al candidato. Partiamo da un paio di dati generali che rappresentano il denominatore comune di questa tornata elettorale. Il ritorno alla politica e la discesa in campo di una squadra tra sindaci e amministratori locali trasversale a tutte le coalizioni. Dopo dieci anni durante i quali alla guida della regione ci sono stati presidenti espressione della società civile Paolo Di Laura Frattura e Donato Toma, l'ente cambia strada e ritorna alla politica con le candidature di Francesco Roberti e Roberto Gravina. Entrambi espressione non solo di questo cambiamento, ma esempio palmare anche del nuovo corso rappresentato dall'ascesa in campo di numerosi amministratori. Sia Roberti che Gravina, oltre che politici, sono due sindaci rispettivamente di Termoli e di Campobasso. Attorno al primo si è stretto il centrodestra che schiera sul campo le liste di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Popolari per l'Italia, Udc, il Molise che vogliamo e la lista del presidente predisposta da Francesco Roberti. Insieme a Roberti dovrebbe andare anche il cosiddetto terzo polo rappresentato da Azione, Italia Viva e Molise al centro. Sull'altro versante, nel centro-sinistra, scendono in campo Movimento 5 Stelle, PD, Costruire Democrazia, Alternativa Progressista e anche qui la lista del presidente alla quale ha lavorato Roberto Gravina. Nel centro-sinistra c'è da registrare una sorpresa dell'ultima ora. Con una nota durissima contro il PD, il segretario regionale di articolo 1, Francesco Totaro, comunica che la formazione non parteciperà contrariamente a quanto annunciato con propri candidati nella lista del Partito Democratico. Un partito, dice Totaro, incapace ormai di andare oltre le rendite di posizione del proprio gruppo dirigente. Una sorta di fortino, scrive ancora Totaro, sordo alle istanze di rinnovamento che provengono dal territorio e da totale trazione fratturiana. C'è poi in campo una terza candidatura alla presidenza della regione ed è quella dell'esponente della lista, io non voto, i soliti noti, Emilio Izzo. Tra i fatti degni di menzione in questa lunga stagione pre-elettorale va ricordato il tentativo da parte del centro-sinistra di proporre come candidato al vertice della regione il giornalista Domenico Iannacone, proposta poi superata dalla scelta in favore di Roberto Gravina. Allo stesso tempo va ricordata la lunga fase di mediazione che ha accompagnato nel centro-destra l'individuazione della candidatura di Francesco Roberti. Ultima notazione, va segnalato il sostanziale nulla di fatto delle iniziative civiche che hanno cercato di entrare in partita. A ritirarsi strada facendo sono stati Molise Domani e Molise Solidale, entrambi nell'orbita del centro-sinistra.